Allora, ragazze, vuoi sentire una città francese? No. No, perché non c'è una buonata, perché secondo me la città francese può andare a uscire tutti. Sì, sì. Allora, al di là del fatto che ci sono molte occasioni, molto sotto l'aspetto del discoteco, ma quello che mi interessa è sapere, avete paura di uscire dopo una certa ora? Beh, quello sicuramente. Comunque è un posto dove magari trovi vicino a lui, perché comunque sei da sola, è pericoloso. E invece a livello di divertimenti dove andate di solito? Ma non trovate che tutto offra molto oppure sotto questo aspetto? Beh, in realtà non c'è una persona che abbiamo bisogno di tutela, perché ci sarebbe riuscire a parlare di divertimento. Ok, grazie. Prego. Grazie. Grazie.